Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Vai Mariano! Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Il prossimo incontro si prepara in categoria 66 kg Vai Mariano! Quanti? Quanti? Dai Mariano! Dai Mariano! 12 secondi! Dai Mariano! Dai Mariano! Dai Mariano! Dai Mariano! Dai Mariano! 2 secondi! Grande! Bravo Mariano! Dai Mariano!